Dopo parecchi anni abbiamo deciso di utilizzare Pronessibus Plus, ma con una procedura anche questa abbastanza tipica. Non fidandoci ed essendo abbastanza scettici sull'utilizzo di determinate apparecchiature, abbiamo tenuto in prova questa macchina. Dopo i primi risultati più che confortanti abbiamo deciso di utilizzarla sia come principale metodo terapeutico, sia come supporto alle nostre attività manipolative e educative, di cui dopo vi parlerò con più attenzione e più correttezza.